Ciao a tutti, oggi abbiamo unito in una terza fase che è la forbice. Allora il movimento è, incrocio avanti, apro, incrocio indietro, apro. Devo tenere le gambe a buco fino a che non si rimane fermo sul tracciato. Quindi incrocio avanti, apro, incrocio indietro, apro. Sì. Dopo, dopo, abbiamo visto anche un mix che aggiunge un po' di dinamica alla forbice stessa. Quindi la vogliamo giurla in dinamica facendo un incrociato avanti lento e poi esplodendo con la forbice e fermando. Due, giro, esplodo con la forbice, primo incrocio all'indietro. Uno, due, tre, quattro, stop. Faccio veloce. Uno, due, stop. Grazie a tutti. Ciao.